Quello che mai e poi mai va fatto in allenamento. Sappiamo che allenarsi fa bene, sappiamo ormai da decadi che fare attività fisica regolare ha degli effetti davvero incredibili sull'organismo, sul cuore, sui muscoli, sulla circolazione, sulla regolazione della pressione, sulla produzione degli ormoni e perfino sulla regolazione del tono del nostro umore, positivo ovviamente. Quindi uno potrebbe dire che fare sport fa solo bene. Sì, certo, è vero, ma ci sono anche molte possibilità di commettere degli errori, ci sono anche molte possibilità di farsi del male. E quindi penso che, soprattutto per quelli che non crescono con una cultura dello sport, ma si avvicinano allo sport ad una certa età da adulti, penso che sia molto importante avere chiaro quello che non va mai fatto per evitare appunto di farsi del male. Beh, un primo punto importante è quello di non esagerare con l'intensità dell'allenamento. Per intensità si intende un parametro qualitativo per definire l'allenamento, per esempio quanto forte batte il cuore, quindi la velocità del battito cardiaco oppure la velocità che si tiene durante una corsa o durante una pedalata in bicicletta. Ecco, l'intensità è qualcosa che va regolato con estrema attenzione perché ovviamente non è difficile esagerare. Supponiamo che uno, per esempio, vada a fare un giro in bicicletta ed incontri ad un certo punto un tratto di salita piuttosto impegnativa, è chiaro che lì l'intensità aumenta drasticamente e bisogna sapere se si sta andando oltre i propri limiti oppure no. Un altro punto molto importante è di non esagerare invece col volume dell'allenamento. Volume significa sostanzialmente la durata dell'allenamento, i chilometri che percorro. Per stare con l'esempio del ciclista fatto un istante fa, se quella persona che sta facendo un certo giro in bici sbaglia a strada e il giro si allunga di 50-60 chilometri, è chiaro che l'impatto che ha sull'organismo, quell'uscita in bicicletta, sarà completamente diverso. Quindi intensità e volume sono due aspetti molto importanti e sono peraltro inversamente proporzionali. Quindi più alta è l'intensità, più basso deve essere il volume, più alto è il volume, più bassa sarà di conseguenza l'intensità. Basta, è ovvio, è intuitivo, no? Se fai tanti chilometri in bicicletta è chiaro che la velocità media che terrai tenderà a essere più bassa. Un altro aspetto che ritengo importante è quello di un errore, un possibile errore di non ascoltare il proprio corpo, cioè di essere un po' sordi ai segnali che il corpo manda e che magari ti stanno dicendo che devi rallentare, che devi andare più piano, che fa troppo caldo, fa troppo freddo, che l'intensità di quel percorso è eccessiva per il tuo livello di allenamento. Ecco, è molto importante per fare sport bene imparare ad ascoltare il proprio corpo. Il corpo non manda messaggi a caso, non ti sta prendendo in giro. Quindi è chiaro che ti devi spingere un pochino, soprattutto se sei un principiante, e non cedere ai troppi segnali della testa che disallenata ti dice non ho voglia di allenarmi, meglio guardare la televisione, meglio stare seduti sul divano. Questo ovviamente lo dobbiamo evitare, ma allo stesso tempo quando iniziamo ad allenarci, iniziamo ad avere una certa familiarità con l'attività fisica, ecco che allora dobbiamo essere sufficientemente furbi anche da saper ascoltare il corpo quando ti sta dicendo oggi salta, è meglio che riposi, i muscoli ti fanno troppo male, oggi concediti una giornata di stacco. E a proposito di stacchi, altro problema è quello di saltare i recuperi. Magari tu hai pensato di fare un tot di allenamenti alla settimana, quando arrivano i giorni di recupero però scatta qualche piccolo meccanismo di, che ne so, di senso di colpa, qualche piccola sensazione negativa, l'idea di non allenarsi, e allora decidi di saltare il recupero. Però quel recupero in realtà è essenziale ed è parte integrante dell'allenamento, perché sappiamo che la risposta positiva all'attività fisica non ce l'abbiamo mentre ci alleniamo, ma ce l'abbiamo quando stiamo recuperando. Quindi è importante imparare a vedere i recuperi come parte integrante dell'allenamento e quando ti sei programmato un recupero o quando addirittura lo senti necessario perché ti senti stanco, ecco, evita di saltarlo. Ecco, ultimo errore, che poi è un po' anche la spiegazione di tutti quelli precedenti, è quello di non farsi monitorare, non conoscersi. Quindi probabilmente guardando questo video ti sarai chiesto, sì, ma come faccio a capire queste cose? Ecco, il suggerimento che io do è di imparare a capirle. Se inizi a fare sport, non limitarti semplicemente a vedere quel tuo impegno come mi metto le scarpe e esco e stanco il mio corpo, ma anche di acquisire una cultura dello sport, di che cosa significano quei parametri di cui ti ho appena parlato e anche possibilmente di farti monitorare da un medico, perché comunque sia lo sport e l'attività fisica è un agente stressante sul tuo corpo, quindi se dosato correttamente è qualcosa che fa molto bene, ma se dosato male non fa altrettanto bene e addirittura può provocare dei danni. Quindi la parola chiave per allenarsi bene è conoscersi, conoscersi sul piano emotivo, sul piano psicologico, ma anche sul piano fisico. Proprio con l'ottica di farti capire meglio come funziona l'organismo, di darti delle basi solide per quello che riguarda la fisiologia dell'esercizio, la metodologia dell'allenamento, sono nati i miei due corsi, Costruisci il tuo corpo, il corso teorico e il corso pratico. Questi due corsi ti permettono di avere una visione piuttosto dettagliata e approfondita di come va gestito un piano di allenamento e anche ovviamente di come evitare di commettere perlomeno gli errori più grossolani. L'allenamento e l'attività fisica deve essere qualcosa che fai veramente per te stesso, per stare bene, per crescere, per essere più in forma. Prendersi cura di sé è il vero senso dell'attività fisica, al di fuori ovviamente del contesto agonistico. Ed è per questo che è importante che tu capisca quanto bene ti stai prendendo cura di te per poi eventualmente andare a colmare le lacune. Se ti interessa capire questo, ossia capire meglio quanto bene ti stai prendendo cura di te, beh qui sotto trovi il link a un piccolo quiz che in pochi minuti ti aiuta a capire questo e anche a darti un quadro più chiaro di quali sono le aree che potresti effettivamente migliorare. Qui sotto.